Ciao, buongiorno, sono Pierina Montanaro dell'Agenzia Immobiliare Casa In. Vi presento un'interessante proposta immobiliare in una delle zone più richieste di Reggio Lilla. Venite! Questa zona è perfetta per chi vuole abitare in città e circondato dal verde. Questo appartamento è molto interessante anche perché si trova in un condominio di sole 4 unità e si sviluppa su due livelli, collegati da questa scala interna oppure sfruttando le due porte che rendono gli ingressi indipendenti dei due piani. Contattatemi per maggiorizzazione, Ciao!